salve amici sono giuseppe castiglia innanzitutto voglio fare un saluto alla città di augusta dove tante volte sono stato ospite dove spero di tornare presto e poi il mio in bocca al lupo agli amici dello shortini film festival un festival di cortometraggi internazionale in sicilia credo che sia qualcosa di cui dobbiamo assolutamente pregiarci per cui ci auguriamo e vi auguriamo e vi auguro personalmente mille di queste edizioni peraltro insomma il cortometraggio è un modo per avviarsi al cinema anche se io credo che non sia solo quello perché spesso sento parlare del cortometraggio come di un cinema secondario o come appunto di un semplice avviamento al cinema vero io invece credo che il cortometraggio sia un altro modo di fare il cinema e peraltro lo ritengo anche spesso più difficoltoso perché bisogna comunque raccontare una storia lanciare un messaggio o lasciare una morale e addirittura in breve tempo quindi in un tempo inferiore rispetto a un film normale per cui mille di questi festival ciao da giuseppe castiglia e ciao augusta